Ciao a tutti, adesso andremo a fare l'unboxing in questo pacchetto ordinato da Aliexpress, non ricordo cosa ci sia, ma mi sembra forse una pellicola, non so categoria dell'oggetto, non so cosa significa, è scritto in cinese dichiarazione del venditore, dichiarato oggetto, gift, regalo questo 0.010, valore 5 dollari, andiamo da qui andiamo a cosa in terra un baior, i oricini un baior, i oricini un baior, i oricini maschili il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, al prossimo grazie